Per fronteggiare il virus dall'influenza H1N1 la sanità regionale sta affinando ulteriormente la sua organizzazione. Nel primo pomeriggio nell'assessorato regionale alla salute si è svolta una riunione interlocutoria per discutere il da farsi. Al momento l'intenzione è di istituire nel Policlinico di Bari la centralizzazione dei pazienti. In pratica uno deve essere l'ospedale di riferimento presso il quale devono essere ricoverati pazienti affetti da influenza A. Inoltre nel corso della riunione si è fatto il punto di ciò che serve ad esempio ambulanze predisposte per i casi molto gravi. Intanto sono stazionarie ma gravi le condizioni dei tre pazienti pugliesi affetti dall'influenza cosiddetta suina. Un quarto paziente invece come si ricorderà un 51enne di Zapponeta in provincia di Foggia è morto lunedì scorso. Le condizioni di una quinta a una ragazza di 23 anni di Monopoli nel Barese mamma da pochi giorni sono buone anche se la donna è sotto osservazione in terapia intensiva. Nessun nuovo caso quindi secondo quanto riferisce l'osservatorio epidemiologico regionale dei tre casi gravi solo uno è trattato in Puglia quello del 37enne di Zapponeta nel Foggiano senza patologie pregresse ricoverato nel reparto di rianimazione dell'ospedale di Cerignola. La sessantenne di Barletta invece è stata trasferita nell'ospedale Molinette di Torino mentre il 51enne di Tricase inizialmente curato nel Salento è stato trasferito al San Raffaele di Milano.